improvvisata oggi da Gasparello Verde, quota di 11.04. Una quota dunque che ha una favorita a mio avviso netta come tirita, lo dicono anche le quote, anche se la quota adesso sfiora i 4 contro 5, ma per il resto potrebbe anche nascondere qualche insidia che non si riesce ad afferrare. Andiamo a vedere, dunque tutto è pronto per la terza corsa di Palermo. Terza corsa di Palermo, femmine di 3 anni sulla breve distanza, netta favorita a tirita, numero 9 che però si avvia leggermente di scosta, si va allo stacco, stacco che vede emergere piuttosto bene il numero 4 di Tesis GV, al cui esterno insiste e passa Taitu R. In terza posizione Tennisi F, e il gruppo si sta sgranando abbastanza con Tirita che ha già intrapreso la corsia esterna ma si trova in penultima posizione. Dunque sta tirando via Taitu R, è stata un po' la più giocata all'inizio di contrattazioni, poi il gioco si è un po' stabilizzato secondo pronostico, adesso sta tirando via Taitu R, precede sempre i due di Porzio, Tesis GV è il numero uno di Tennisi F, sta tirando via, io ho 44 nei primi 600 metri, adesso Tirita con spesa, comunque risale sul calo di andatura da parte della battistrada e non sembra trovare opposizione. E così, lungo l'arco della penultima piegata, la favorita Tirita sfila in avanti su Taitu R, Tesis GV, poi l'uno di Tennisi F che adesso prova a venire avanti ed affianca Tesis GV. Gli altri via via spersi un po' per la pista, mentre ha sbagliato ed è stata squalificata Turandò. Tirita apparentemente in controllo della situazione, però ha speso e quindi potrebbe anche accusare un po' nel finale, prova a farsi sotto Tennisi F che ha ormai preso di mira e sta superando Taitu R e prova ad avvicinarsi anche alla capofila Tirita. Nel frattempo altro errore, si tratta di Tiffany Griff, fasi finali con Tirita che entra in rete d'arrivo ancora in vantaggio, appare piuttosto provata la cavalla di Cesare Ferranti ma la sua superiorità non sembra poter essere messa in discussione, comanda Cesare Ferranti e si mette al sicuro. Va a vincere dunque abbastanza chiaramente Tirita, mentre per la piazza probabilmente Tesis GV sul filo ha avuto ragione della sua compagna di allenamento Tennisi F. Vittoria dunque come lo pronostico per Tirita, quota di 1,69, dovrebbe aver viaggiato sicuramente attorno all'1,15, forse anche un filino meno, ma comunque nessun problema. 1,69 per la vincitrice che porta i colori del signor Franco Mendolia, mentre come c'era sembrato in presa diretta, in effetti Tesis GV ha pizzicato Tennisi F sul filo per il secondo posto. In numeri dunque 9,4,1, l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della terza corsa di Palermo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.